Buonasera a tutti e adesso vi facciamo vedere in pratica quello che sarà l'acconciatura della prossima sfilata che richiede un look molto giovane, fresco, però nello stesso tempo doveva essere anche un po' glamour, doveva essere proprio una donna ma anche una donna giovane e dunque abbiamo deciso di creare due situazioni differenti, dunque una parte molto lucida e mentre il resto dei capelli rimane opaco e utilizziamo in questo caso, perché il nostro lavoro è anche sperimentazione, cercare di provare sempre, un barattolino vuoto dove all'interno mettiamo un prodotto che si chiama Fix Max di Oreal ed è un prodotto di TechniArt, dunque mettiamo una buona parte di prodotto, di gel in questo caso e poi c'è in perfezione sempre dell'Oreal che è un prodotto leggermente grasso e utilizziamo questo prodotto per rendere il gel alla fine non troppo forte, non troppo gelatinoso, lo misceliamo insieme, ecco così, questo è shine in perfezione e poi con delle piccole sezioni andiamo a creare il nostro lavoro, dunque applichiamo il prodotto soltanto nelle radici con un pettine largo, vedete separiamo i capelli a grandi sezioni così e mettiamo il prodotto in radice, questo perché? Perché comunque il resto della capigliatura deve rimanere asciutta e poi vedrete che l'effetto finale sarà quello di un un capello glamour però nello stesso tempo molto molto giovanile e fra l'altro potrebbe essere tranquillamente un look estivo ma anche un look invernale, dunque è un look senza tempo che possiamo fare in qualsiasi stagione e in qualsiasi occasione che chiaramente comporti magari delle situazioni di divertimento, di gioco, insomma si può fare per tante occasioni. Continuo sulla parte frontale, vedete ancora colpettine largo, separo, continuo l'applicazione del prodotto sempre in radice e vedete mantengo una riga centrale perché così è anche più ancora più glamour e continuo sempre con l'applicazione del prodotto sempre sulla radice vedete ci stiamo avvicinando sulla parte frontale e continuo ancora vedete come questi due prodotti insieme il gel di tecnica arte fix max insieme procurano proprio una brillantezza incredibile facciamo sull'altro lato anche così continuo parte frontale e abbiamo quasi terminato la nostra pettinatura però arriva nel momento più importante per dare sempre un effetto ancora più lucido dopo aver applicato bene il prodotto dunque abbiamo una parte che deve rimanere deve risultare abbastanza aderente con un pettine sottile andiamo a perfezionare il nostro lavoro e fra l'altro in questo caso il nostro lavoro sarà anche semplificato perché la parte diciamo un po' più oleosa aiuta alla fine il capello a essere pettinato per bene facciamo l'altro lato e vedete qua la differenza fra il super lucido e invece la parte finale dei nostri capelli che risulta opaca e questo dà un effetto molto bello alla nostra acconciatura terminiamo il nostro lavoro con infinium una lacca abbastanza leggera e andiamo a rifinire alla perfezione la nostra lucentezza vedete risulta quasi un effetto specchiato super gloss ecco qua e questa è la nostra acconciatura per la prossima sfilata grazie mille e buon proseguimento grazie grazie grazie